Mina Fossati fino all'ultima nota 16 e 57 minuti, ben trovati ancora in diretta e come preannunciato con noi c'è il consigliere provinciale Ernesto Siga, ben trovato. Carissimo, buonasera. Come stai? Benino. È una settimana che ci siamo persi, com'è andata questa settimana? So che insomma hai fatto tante cose durante questa settimana. Sì, 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 abbiamo girato un po' la provincia, abbiamo discusso un po' dei temi, ho avuto l'onore di ricevere un riconoscimento. molto importante. Stamattina, sì, a Napoli, scugnizzo, per sempre scugnizzo, un riconoscimento per le buone pratiche amministrative, c'era insieme a me Corrado Ferlaino, c'era insieme a me tanti imprenditori del settore della farmaceutica, del sociale, un bel riconoscimento. Io me ne vanto di una cosa, io sono stato l'unico sindaco, poi mi hanno seguito un paio di colleghi, per il trasporto pubblico locale gratuito, una cosa straordinaria perché aiutava le fasce deboli, aiutava l'ambiente che certamente favoriva l'utilizzo dei mezzi pubblici, quindi aiutava il traffico, lo smog, ma era una cosa importante perché aiutava veramente gli anziani e il giovane che comunque 40, 43, 45 euro l'abbonamento pesava. Il pendolarismo soprattutto insomma. Purtroppo è stato tolto dal mio successore, ma lo rimetteremo appena torneremo. E vabbè, insomma di questo parleremo certamente, però caro consigliere il tema del giorno e non può essere diversamente è insomma la tempesta di Santa Lucia che ha fatto danni enormi e che probabilmente ha posto ancora una volta all'attenzione, se mai ce ne fosse bisogno, le criticità di un territorio molto fragile, qual è il nostro e quando dico il nostro parlo in generale della Campania, no? Poi perché ci sono state... L'Italia. L'Italia nel nostro paese. Beh sì, però ieri è successo di tutto e di più tra Napoli, Salerno, la Costiera Amalfitana, l'Agronucerino Sarnese, per non parlare insomma della vicina Lucani, insomma anche all'Uria, danni enormi, insomma ci sono stati 15 feriti, però c'è qualcosa che non funziona. Ad esempio la città di Salerno ieri è completamente allagata. Beh io credo che se si è realizzato in questi ultimi anni preoccupandoci poco delle difficoltà, non potendoci nemmeno tanto preoccupare perché dinanzi a quello che è l'attualità della programmazione, dell'edilizia, della pianificazione, spesso non puoi preoccuparti di ciò che è stato il dramma della pianificazione, della realizzazione degli anni passati. Adesso come si risolve il problema? Il problema io ritengo che è difficile risolverlo. Possiamo recuperare il recuperabile, difendere il difendibile cercando di non fare più gli errori del passato il più possibile? qui si apre una discussione ampia sulla potenzialità dei vanni a realizzare, su come vengono realizzati, su come viene fatta la pianificazione, due pesi e due misure all'interno dello stesso perimetro, quindi parlo tra Ponte Cagnano e Battipaglia, c'è tutto da discutere. Però io ritengo che è difficile, riempiremo pagine di demagogia ma non si risolve il problema. Sì, c'è una questione che ha posto oggi il presidente dell'ANCE, l'associazione dei costruttori lombardi, dice ragazzi non possiamo più scherzare, no? Cioè nel senso che il tema del dissesto idrogeologico è un tema che interessa, mo ci vuole, tutto il paese, ma ci sono alcune aree come la nostra, la Campania in generale, che dovrebbe mirare a un recupero del patrimonio edilizio esistente. Lui ha parlato di rottamazione degli edifici che non sono più in uso, degli edifici che sono tra virgolette obsoleti, cercando però di recuperare sostanzialmente tutte le parti, senza cementificare oltremodo, si è chiaro, recuperando però tutte le parti urbanistiche nelle città ed eliminando quelle aree di costruzione nelle aree che sono altamente a rischio, perché ce ne sono tante, parliamo insomma le aree con termini ai fiumi, le zone di smottamento, le zone di frana, ma tu pensi che sia qualcosa di realizzabile? Guarda, la pianificazione, lo dico da anni, io dico l'urbanistica è l'elemento fondamentale per la crescita del mezzogiorno, che passa attraverso una riforma e delle leggi che abbiano una rottura con il vecchio andamento. Quando parliamo di rottamazione di solo zero, quando parliamo di consumo di solo zero, oppure parliamo di case sociali, oppure di quartieri che devono essere rimodullati, dobbiamo immaginare di accompagnare queste etichette attraverso delle leggi precise, che non possono avere dei vingoli e dei lacci che impediscono quello che è la nuova pianificazione nella realtà. Perché noi troviamo un disastro legislativo, normativo che impedisce all'imprenditore di scendere in campo. Quindi quando parliamo di tutte queste cose, parliamo di rottamazione, di consumo solo pari a zero e altro ancora, se non vengono supportati da leggi fondamentali che pauriscono l'iniziativa privata, non c'è discussione. Perdiamo solo tempo. Perdiamo tempo, certo, questo è un punto fermo. Altro argomento del giorno, o comunque di questa settimana certamente, e qui spostiamo un po' il dibattito su un ampito politico un po' più ampio, è stata la venuta di Matteo Salvini in Campania, è stato a Napoli, lì si è aperto anche un po' il dibattito, in vista è chiaro, è inutile nasconderlo, delle prossime regionali che interesseranno la nostra regione. Ti faccio una domanda, tu cosa pensi del trasformismo politico? Ma non è, non è, non lo dice, non è il momento di parlare di trasformismo, perché quando si parla di trasformismo dovremmo parlare di una condizione politica stabile, cioè noi dovremmo parlare e discutere di un paese normale dove ci sono da una parte liberale, da un'altra parte i laboristi, da una parte sono i democratici, da un'altra parte i repubblicani, ma viviamo una condizione politica dove sinceramente quello che fa riferimento al centro-destra, al pensiero liberale, ha bisogno di una casa politica partitica e abbiamo visto il susseguirsi di cambiamenti di casa, non di chi ci abita dentro, lo dice uno che vive questo dramma, lo ha vissuto in prima persona, perché ritenendomi un popolare liberale, ritenendomi alla casa dei liberali dei popolari. Io trovo difficoltà a trovare una casa dove si applica la politica, dove c'è una condizione di partecipazione, di antagonismo dialettico, di conflittualità. Io mi preoccupo a coloro i quali passano da destra a sinistra, ma pure lì voglio dire il problema è di mettere in pratica, lo dice di chi ha fatto l'amministratore, di mettere in pratica nel percorso amministrativo quotidiano ciò che è proprio ideale, la regola di vita propria. Ernesto, io ti ho fatto questa domanda perché in questa settimana è successo un fatto importante, c'è stato uno scontro fortissimo a livello di Camera dei Deputati e soprattutto a Palazzo Madama, al Senato, tre senatori del Movimento 5 Stelle sono passati alla Lega, per adesso, così lo ha sottolineato anche Matteo Salvini. Però tu hai detto una cosa importante, quindi che non assolve evidentemente chi non riesce a trovare una propria collocazione politica e quindi è alla ricerca. È un discorso che, come giustamente ha sottolineato tutti, appartiene. Eh, ma passare dal Movimento 5 Stelle però alla Lega non è che c'è una conterminità o comunque sia... No, no, è perfetto il passaggio. E spiegalo ai nostri amici alla scuola. Perché tutte e due le forze politiche sono le forze della cosiddetta mai arrivati, mai vissuta, mai concretamente esistita della Seconda Repubblica. La Lega rubano la vecchia metodologia. La Lega e i 5 Stelle. Fanno un governo per un anno, i 5 Stelle si candidano ad essere il contrario di quello che oggi sono. Ma chi ha tradito? I ragazzi senatori che vorrebbero essere correnti con quella che è una rottura, rottura totale con le vecchie metodologie, con chi oggi invece fa il contrario di quello che si era proposto di fare, di andare in Parlamento, di fare la pescatola del tonno, delle acciughe, di rompere tutte le condizioni storiche, tutto l'incessamento come lo si vuole definire di una volta. O è traditorio di coloro i quali non vivono sempre con questa difficoltà. Quindi parliamoci chiaramente. I tre senatori, ma ne saranno tanti altri. E notizia di poche ore fa, mi pare, che Gianluigi Paragone voterà contro il bilancio. Finalmente, dico, perché Gianluigi... tradizione. Quindi, ma tu puoi immaginare che i 5 Stelle governano, immaginando qualcuno, rischiando di diventare la nuova NCD. Cioè rischiano di diventare... Però, per essere seri sul discorso, otteniamo un minuto di tempo su questo, dobbiamo anche dire che un anno e mezzo fa, nella campagna elettorale che aveva visto confrontarsi e scontrarsi il Movimento 5 Stelle e Lega, prima poi di trovare il cosiddetto contratto di governo, insomma, c'era una contrapposizione assoluta e una distanza abissale tra i due movimenti. Seppur entrambi, e su questo te lo riconosco, avevano, come dire, un unico filo conduttore che era quella di rottura verso quel sistema politico passato. Poi si è trovato, come dire, una sintesi su quel famoso contratto di governo che poi, però, a un certo punto è fallito. Quando i senatori vivono una incoerenza quotidiana con atteggiamenti e percorsi legislativi, devono trovare uno sfogo, devono trovare la casa più vicina alle loro idee, più coerente a quella che è stato il loro impegno, più coerente all'espressione di quella che è stata la delega ricevuta. Ma come si fa, cioè, voglio dire, i 5 Stelle, ma ti rendi conto del danno che stanno facendo al Paese? Il reddito cittadinanza, la vicenda, la riforma giudiziale. Tutte leggi che inseguono la pancia dei cittadini non si preoccupano a immaginare un'Italia diversa, ma tu ti rendi conto del danno che stanno facendo. Immenso. Beh, diciamo che questo, chiaramente, è al giudizio dei nostri amici anche all'ascolto che poi, prima o poi, dovranno pur recarsi nell'urna elettorale e esprimere un giudizio. Altro argomento che inevitabilmente ci contraddistingue, che merita un'analisi, è questo fenomeno che è scoppiato con una certa forza e che investe anche il territorio campano, inevitabilmente, se non sbaglio proprio stasera credo siano ad Agropoli, le sardine. Le sardine è l'esaltazione di chi non sopporta più nessun riferimento politico-partitico. Deluso soprattutto dal centro-sinistra, capaci di organizzarsi oggi rispetto a uno stimolo giovanile, di pancio, come lo si vuol definire, ma non fa altro che entusiasmare ciò che erano depressi, che parzialmente andavano a votare e altri non andavano a votare. Non so, nel risultato finale elettorale possono condizionare e non credo che diventa un riferimento politico-partitico. Fermiamoci qua, perché poi prenderemo dopo un po' di consigli per gli acquisti proprio da questo e faremo altri due minuti di approfondimento. 17 e 11 minuti, eccoci trovati ancora in diretta, siamo con il consigliere provinciale Ernesto Sica. Insomma, consigliere, abbiamo ancora quattro minuti per analizzare i fatti della politica che hanno caratterizzato questa settimana e soprattutto, come dire, dare qualche spunto di visione per la settimana che sta per venire, che poi ci avvicina a Natale sostanzialmente. Ci siamo fermati, per i consigli per gli acquisti, sul discorso delle sardine, che è un fenomeno che è scoppiato in Emilia Romagna o comunque nel nord Italia. tu lo hai già definito, come dire, un movimento molto vicino chiaramente al popolo di sinistra sostanzialmente e a microfoni spenti stavi dicendo, guarda, le sardine sostanzialmente insomma tutto quel che possono fare è indebolire il Movimento 5 Stelle. Sì, sì, sono convinto di questo e sono anche convinto che tra le motivazioni per cui il governo rischia è che la crescita di questo movimento mette in difficoltà, annulla il pathos dei 5 Stelle e quindi li spingerebbe ad andare subito a voto per fare cassa e poi governare per i cinque anni una legislatura sicuramente in minoranza ma perlomeno si difendono. Certo, certo, certo. Un elemento che naturalmente contraddistingue lo scontro politico in atto tra gli schieramenti di maggioranza e di opposizione, lo commentavo qualche giorno fa proprio con un primo cittadino, con un sindaco del Salernitano, è questa rinascita della terminologia fascista e antifascista. Ma infatti il sindaco ha detto la stessa cosa, ha detto, vabbè, ma basta, no, ma basta. Che cosa sta succedendo? Perché, insomma, c'è chi spinge sia da un lato e chi dall'altro. Perché quando c'è il vuoto della riflessione, quando c'è il vuoto sostanziale di ciò che il paese deve affrontare e deve risolvere, si parla di temi che appartengono alla preistoria. Incominciamo a parlare anche degli etruschi e chiudiamo la parola. Infatti, infatti, infatti. Allora, 338 11 11 102, se volete fare la vostra domanda ad Ernesto Sica, anche per sabato prossimo, naturalmente, noi poi terremo conto di tutti i quesiti che ci pongono i nostri amici all'ascolto. In due minuti per arrivare a conclusione, beh, insomma, c'è un interesse particolare nel tuo modo di operare, soprattutto in questo momento storico, che mira e che guarda con attenzione alle regionali della prossima primavera. Si sta lavorando per costruire una coalizione, c'è stato un nuovo endorsement da parte del leader della Lega, sostanzialmente a favore di Caldoro, però ancora non si riesce a sciogliere questo nodo su chi deve guidare la coalizione. Guarda, credo che la dichiarazione di Salvini possa essere da sintesi. Il centrodestra vuole vincere bene, vuole la Lega rappresentare il primo partito, chi è il candidato tocca a Forza Italia. Caldoro è una massima espressione e personalità. Quando Forza Italia indicherà il nome, noi potremmo meglio ancora organizzare la coalizione e credo che il centrodestra, indipendentemente dal sondaggio che è estremamente positivo, deve attrezzarsi a fare delle liste forti radicate sul territorio e capace di essere interlocutrice costante di quello che è esigenze delle comunità e delle popolazioni. Ma la Carfagna se ne va? E' che non... Tu la conosci anche bene, tra l'altro. No, non la vedo da parecchio. È una grossa personalità italiana che affronta i temi nazionali con grande interesse e credo che sta vivendo, leggendo i giornali, sta vivendo un momento di disagio ma credo che non può andare via da Forza Italia perché quella della sua casa è l'unica casa, credo, che può dare bene e fare bene. Ernesto Sica lo ritroveremo sabato prossimo dalle 17 alle 17.15 qui su Radio Alfa per parlare di politica, di quel che accade intorno a noi e preparandoci tutti anche mentalmente alle prossime elezioni regionali. Grazie Ernesto. A prestissimo.